Ma è semplice E non è neanche fatto apposta Pensate C'è Grazie telefono E forse ci fai cominciare a registrare Porca troia Ok abbiamo finito Ciao Ciao bella E come prima cosa Vi dico che non fate caso ai miei capelli Perché fanno cagare Infatti è che lui oggi si è presentato troppo presto a registrare E io me devo fare una doccia Io me devo fare una doccia Mi fai parlare Io devo fare una doccia Non mi fai parlare E non me so potuto fare una doccia Io ne ho manco potuto sistemare i capelli Perché quindi mi sono i capelli di quando mi sono svegliato Ho parato a pettinarmeli ma non voglio non sapermeli E la caruccio col pigiano Non so Ti ho tornare ai pack Oggi mi ho tornare ai pack dopo due mesi Tanto dopo tanto Tanto Quasi due mesi Fa proprio tanto Tanto Ma forse è tanto Tanto si E niente io direi di partire subito con le domande Perché ce ne abbiamo parecchie oggi Se siamo riusciti a trovare qualcuno A meglio Però Regalui prego Imparatevi i congiuntivi Prego Una cosa che ve chiedevo col cuore La prima domanda ce la fa Moreno Matteo Martinez Fuck Ragazzi Io sono siciliano Io sono siciliano Cogito E onestamente Mi sono un po' rotto il cazzo Come credo Tre quarti di siciliani Che seguono youtube Del fatto che Per potervi conoscere Dobbiamo andare da Napoli in su Beh non è bello Perché ci sentiamo poco presi in considerazione Comunque la domanda è Avete intenzione di fare qualche raduno in Sicilia Dalle parti di Siracusa a Catania Bella raga Cagate mi E bis siete dei grandi Allora Te lo spiego in modo tecnico Semplicemente Non organizzano fiere Dove siamo invitati Dalle parti vostre Tipo Sicilia O Puglia O Calabria Cioè organizzano tutti fiere Dove non ci vogliono a noi Nel senso Non è che Non ci tengono in considerazione Appunto come voi Dite che noi Non teniamo in considerazione voi Non è colpa nostra Se non veniamo Perché comunque Spostarsi fino in Sicilia Ha un costo E rimanerci Cioè a me Mi verrebbe a costare A persona Vorrebbe a costare Due o trecento euro Tra biglietto O aereo O treno Più nave E poi E poi comunque I soggiorni Là due giorni Quindi devi pagare l'albergo Quindi verrebbe a costare Comunque una bella cifra Quando andiamo Nell'altra città Molte volte 99% di volte Ci viene pagato Il viaggio Quindi è per quello Che noi andiamo Nell'altra città Perché è più semplice Per noi Se veramente Volete tanto Che gli youtuber Vengano dalle parti vostre Rompete il cavolo A queste fiere Che organizzano Tipo Etna Comics Oppure che ne so In Puglia O in Calabria E tempestate Di messaggi Giorgendo Invitate gli youtuber Invitate gli youtuber E votarsi Che magari Vi ascoltino E ci invidi Quando vedete gli youtubers Nel sud Perché vengono invitati Che ne so I centri commerciali E gli viene pagato un viaggio E' tutto là La cosa Quindi è molto semplice Non è che noi Non vogliamo venire in Sicilia Perché abbiamo qualcosa Contro la Sicilia O non vogliamo venire in Calabria Un Puglia E cazzi vari E' semplicemente perché Nessuno ci invita Ci invita là Molto facile Cioè le fiere Non le organizziamo noi Non siamo noi Che mettiamo Il cavannone Lo stand Tutto quanto Sono gli altri Che organizzano le fiere E poi ci invitano E' diversa cosa Francesco Simonelli ci chiede Avete due pillole davanti Una rossa e l'altra blu Anche se a te serve quella blu Sono sicuro Se prendete quella rossa Avrete una vita intensa Ma breve Se prendete quella blu Una vita lunga Ma mediocre Rossa o blu? Rossa E' la stessa cosa Sì infatti è la stessa cosa Pur io avrete detto rossa Marisa Bortoletto Che avete a disposizione Una macchina nel tempo Potete fare solo un viaggio insieme Dove decidete di andare? Io ce l'ho Io ce l'ho Indiato nel tempo E impedire ai tuoi genitori Di scopare Ah calma Come la vedi? Lo farei pure io Così sarebbe Beh ragazzi Sono Daryl No comunque Dove potremmo andare? Allora andiamo 3000 anni avanti No 3000 è esagerato Diamo il 5016 Per preciso eh Sì Però il 31 del 5015 Così se arriviamo a capodanno Se arriviamo a capodanno Metti che hai cambiato il calendario Che ne sai? Magari la sedata E la si sposta Ci mette più tempo A gire intorno al sole Che cazzo ne so E quindi diventano 370 giorni Poi dobbiamo organizzare Il capodanno Lasciamo il salto Ma infatti no Ma io te no A caso Così un giorno a caso Famo Stiamo muovendo la scalera Muovendo la scalera Mamma mia Manuel Scalera ci chiede Quali sono i vostri obiettivi Per il 2016 Allora come sempre Useremo un 1855 Della Canon Madonna mia Ma infatti non riuscivo a capire Che c'entrano i numeri Poi volevo comprare Un 50 mm Però Non so Non so se ne vale la pena Manuel Scalera Manuel Scalera Manuel Scalera Alla direzione Alla scherda Alla direzione Alla scherda Manuel Scalera Manuel Scalera Manuel Scalera Perché c'è il suo cognome? Alla scherda Ciao Alla scherda Vabbè comunque I nostri obiettivi Avere obiettivi Come abbiamo già detto Nel video del 2015 Del buon anno Per il 2016 Nel buon anno Per il 2016 Avevo detto che Quello comunque I nostri obiettivi Saranno di fare sempre meglio Provare sempre nuovi video Nuovi format Migliorare Aumentare ovviamente Discritti Perché se no Non siamo qui Per Che cazzo Stiamo a fare qua E niente Prima che comunque I nostri video vi piacciono Tutto qua Sharon Naingolan Ci chiede Cosa ne pensate di Youtube Italia in generale? Vi si ama? Cedebelli parecchio Forza Roma Una poesia scritta Allora cosa ne pensate di Youtube Italia in generale? Io non voglio parlare Perché sinceramente È un periodo in cui Penso che Sia a livelli massimi Di ipocrisia Youtube Italia Ma proprio Da parte di tutti Nessuno escluso Vedo veramente Troppa ipocrisia In giro E ovviamente Non voglio far nomi Perché comunque Non siamo tipi Che alimentano flame Che vanno a cercare il flame Quindi È un massimo C'è flamma Esatto E quindi Non farò nomi Ma parlerò tipo in generale E dico che per esempio Vedo Che ne so Youtuber Che osannano i propri fan Tanto per tenerseli buoni Invece Gli interessano Soltanto i soldi Che i fan danno a loro Vedo youtuber Che possono copiare format Tranquillamente E non gli si viene detto nulla Dai propri fan Mentre se Succede che noi Facciamo magari Un video simile A un altro youtuber Subito ci viene sottolineato E siamo etichettati Come non originali Vedo youtuber Che fino all'altro ieri Si scannavano fra di loro Che adesso collaborano Oppure altri youtuber Che sfruttano Altri youtuber Per fare più iscritti Purtroppo voi Vedete soltanto il video Di youtube Mentre noi vediamo Tutto quello che c'è dietro E purtroppo posso dire Che sono pochissime Le persone che ci sono dietro Che si salvano Almeno a nostra parere Poi magari qualcun altro Fa lo stesso discorso Includendo noi Ovviamente Noi Abbiamo deciso Che Ci abbiamo deciso Ormai come vedete Una cosa che va da sola Praticamente più o meno Come vedete Facciamo i video Quasi sempre da soli Perché ci siamo Stancati Dei correre dietro la gente Oppure sperare Di poter fare un video Con qualcuno Quindi Diciamo che sono pochissime Le persone Che Che noi stimiamo Su youtube E loro lo sanno Senza che lo diciamo A voi esplicitamente Sappiate che Non siamo contro tutti Però comunque C'è qualcuno che stimiamo E ovviamente Potete capire chi è Se ci seguite su youtube Quindi Tutto qua Basta Prossima domanda La prossima domanda ce la fa Luca di Francesca Antonio Andrea Giovanni Francesco Avete mai visto la WWE Il wrestling da piccoli Se si qual era il vostro Wrestle preferito Continuate così Gragnagli Io mi compravo pure Paper view Il mio era Vabbè Ce ne ho due realtà Dei preferiti Che uno Pace all'anima sua Si è suicidato Che è Eddie Guerrero E l'altro Pace all'anima sua Si è suicidato Che è Chris Benoit E l'altro Undertaker Invece il mio preferito In assoluto È Rey Mysterio Per ovvi motivi Perché siamo tutti Due messigani Quali sono gli ovvi motivi No vabbè Perché era basso Io da piccolo Ero bassissimo E quindi Mi rappresentava il basso Che ce la poteva fare Ce l'avevi pure con la maschera Non mi capi No Però lo messicano Ok Poi invece l'altro Era Eddie Guerrero Per ovvi motivi Perché era l'amici Perché era messicano Quei lui Era messicano Di Guerrero Si di origini Vabbè Vabbè Tipo Guarda No Era Era pure per me Eddie Guerrero Perché era troppo simpile Era troppo simpile Lo scippavo Lo scippavi Quei misterio La cifretta Ma che cazzo Per di scippare Non lo so Ecco tu Ma spiegatevi A favore Eddie Deciippo Ma che è Ma che fordì Non so Comunque io faccio Sempre la froc La cifretta Ci ho pensato Fazzissimo Vabbè Comunque Si è la froc splash Chi è che non ha mai fatto Io ho sempre potuto Fasics OneN Ma non ho mai potuto Fasics OneN Perché è impossibile Da ricreare A meno che non c'è un ring Non la puoi fare No faccio Vabbè io ogni tanto Faccio il palo E una volta Ho provato a farla Poi mi sono accorto Che non tu cavi Dell'arte tensione Ho detto no No Lasciamo stare Io ho fatto il palo E sto cascato Tranquillo Se questo video vi è piaciuto Lasciamo 5.000 like E noi ci come sempre Noi ci come sempre Ci vediamo Al prossimo video E dai canali Se è tutto Bella Magari fate le domande Senza Usare i conditivi sbagliati Cioè Usare i condizionali Invece che i conditivi Perciò Niente Noi ci becchiamo Al prossimo video Bella Ciao